è morta laura buco coordinatrice provinciale di forza italia e portavoce del sindaco di perugia andrea romizzi morta sabato sera laura combattuto con forza contro una terribile malattia a dare l'annuncio della scomparsa è stato il gruppo di forza italia azzurro donna umbria laura ci ha lasciati un amico una forza della natura che ha saputo costruire un gruppo di amici più che compagni di partito ha creato legami stretto rapporti questo patrimonio ora è nelle nostre mani abbiamo una grande responsabilità mancherà il tuo spirito la tua voglia di fare di unire di reagire mancherà il tuo sorriso di te mancherà tutto ma faremo tesoro di quello che hai costruito grazie a tutti grazie a tutti